Musica Lo accogliamo con calore Giuliano Lanzetti Musica Se avevate lavorato bene fino ad oggi quel calo io lo noto sull'eccesso se invece eravate alla canna del gas il locale non era mai pieno quel calo ve lo prendete tutto nei denti Musica Lo primo che abbiamo notato noi è al ristorante abbiamo incrementato il 30% del fatturato grazie alle tecniche e l'aiuto che ci ha dato dei tanti consigli Giuliano Lanzetti Noi siamo passati da 12 euro a coperto medio arrivare a 20 dunque stiamo parlando di un enorme risultato ma non è finita qua Sei qui per dimostrare che con la tua energia con il tuo entusiasmo con la tua passione cambi non soltanto la vita di quelle tue persone al tavolino ma cambi la tua vita e quando tu ne sei consapevole non servi più niente sei lo vuole servo quando provo dolore è perché devo agire e fare una azione e il dolore a volte ce lo provochiamo noi vedi quello là che ce la fai e te non ce la fai ti senti male perché dice ci ho provato e non ce l'ho fatto oppure io fatturo di meno io non lo sono ancora siamo in grado di provocarcelo da solo il dolore ma quel dolore ha lo scopo di farci agire e non di deprimerci e fare altro dolore che si somma siamo veramente partiti carichi tanta energia tante bellissime nozioni cose è davvero un bel feeling uno si sente proprio io lo percepisco l'aspettavo da non so da quando perché io sapevo ero cosciente che c'era nel mercato qualcosa che potesse aiutarmi finalmente l'ho trovato grazie per soprattutto la sua personalità direi perché come parla lui a noi nessuno mai diciamo